C'è tutto il meglio che il nuoto in acque libere esprime a livello mondiale nella 53esima edizione della Capri Napoli Trofeo Farmacosmo presentata in sala giunta a Palazzo San Giacomo dall'assessore allo sport Ciro Borriello. È un fatto importante, storico. Attendiamo questo appuntamento che è importante per la città e tra gli appuntamenti imperdibili dello sport napoletano. Il fatto che poi si è inserito in una delle gare del campionato del mondo ci rende ancora più orgogliosi di questo evento sportivo veramente imperdibile. Le acque di Napoli sono straordinarie. La Capri Napoli è una gara che io definisco ormai epica. È una gara che evoca veramente ricordi straordinari, ha una storia, ha soprattutto una visibilità importante e straordinaria. Un'edizione, quella di quest'anno, valida come Final World Challenge che chiude la stagione delle tradizionali maratone motorie mondiali. Ancora una volta vedrà al via i più forti atleti della disciplina affascinante e faticosa. Si partirà domenica 9 settembre alle 9.30 il Raduno alle Ondine, alle 10.15 lo Start, l'arrivo al Circolo Canottieri Napoli. Soddisfatto per l'edizione di quest'anno l'organizzatore Luciano Cotena. Quest'anno il tempo sembra che domenica sia buono e quindi ovviamente i notatori potranno nuovamente affrontare il Golfo di Napoli, esprimere le proprie capacità al meglio e mi auguro che, come è accaduto l'anno scorso, seppur ovviamente nel circuito a livello maschile, possa arrivare la vittoria alla Capri Napoli di un ragazzo italiano che manca comunque dal 70.